Cari amici e cari nemici, sono qui questa sera per darvi una notizia, almeno per me, veramente brutta. Ho deciso oggi di tagliare quella trasmissione Strano Amore Siciliano, di smettere di farla, perché ci sono stati ultimamente troppi commenti, troppa gente che ha parlato male di me, che pensa che io mi approfitto della gente, allora io ho deciso di cambiare totalmente mestiere e di smettere con Strano Amore Siciliano, addirittura, scusate, scusate, mi sto commuovendo, scusate, scusate. Ah, ci siete cascati! E non è questa la brutta notizia, la brutta notizia è che io continuo ancora a fare Strano Amore Siciliano e per festeggiare questo bel giorno vi voglio presentare un cuore solitario che si è presentato stamattina. Vieni avanti Filippo, lui è Filippo, ha 35 anni e viene da Marsala ed è in cerca dell'anima genella, un cuore solitario. Ciao Filippo! Ciao compadre me, buongiorno! Allora Filippo, innanzitutto chiariamo una cosa, come mai ti sei presentato con la maschera? Così lo facciamo sapere ai nostri telespettatori che ci stanno guardando. Perché sono lì io che faccio cagare! Allora non mi voglio fare a bitire, ma se no ho speranza di trovare a nudo. Però mi sa che tu hai un bel carattere perché gli amici parlano bene di te. Amici o no, io avevo quattro atti, io mi cagano solo i cani a mio. E vabbè, comunque ci sono... Sono proprio disgraziato, va! Ascolta, nella vita tutti abbiamo una speranza e io penso che la speranza ci sia anche per te. Speranza, coprire di speranza, di sperare di morire e di imparare a mio. Va bene Filippo, allora... Io sogno un po' a costi, un po' pessimista perché la vita è stata un po' dura con me, va! Cosa, mi hai accennato qualcosa che ne è passate tante? Io mi metto in capa televisione a pensare magari un'andicchia di speranza proprio per me, a cieco per altri, perché finora l'unica cazzita che ho avuto è qualcosa di buono, perché mi scassa la minchia, è chissà! E' chissà, io solo con chissà mi faccio, va! E' un po' come mi stancato perché è freddo! E' un'andicchia di cazzina che da buono! Esatto, no ma ti capisco effettivamente! Mi dissero che siete bravi per trovare cazzina che... Ma noi ci tentiamo! Perché stanno un po' particolari come la mia! E allora... La nostra forza è il web! Il web? E' questo che è il web? Il web è quando uno mette le registrazioni in rete... E' in capa YouTube? Sì sì in capa YouTube! Ah YouTube! E' un video! Ti vi dà a te in capa YouTube! Esatto! Con questa registrazione abbiamo la speranza di poter catturare qualche anima gemella per te! E' un po' posso far abbrire ma per ora! E tu che dici? Potremmo fare qualche cosa? Avete qualche con poco le carinazze su questa mano per me? Ma le telefonate ci sono? Ci sono ottime speranze! Puro per me? Puro per me! Puro! Puro per me c'è allora! Esatto! Allora ascoltami Filippo! Parliamo un po' di te! Come passa il tempo? Cioè cosa fai? Intanto che lavoro fai? Un cazzo pazzo! Io avevo un'andicchia di pensione perché fece un po' di caita e mi fece dare la pensione che sogno mezzo forte! E' un sogno forte! Però avevo la pensione che sogno forte! E qui... Cioè 31400! Una truffa! Cioè freghi lo Stato! E me ne futtano a campare! Compa! Cosa futtano tutti! Futtano quelli che! Pure il Parlamento futtano a futtare! Compa! Poi si dice sempre futti futti che Dio perdona tu! Perdonato tu! Bravo! Vedi che usai pure tu il Vangelo! Bravo! E ho pure studiato il Vangelo! E quanto prendi ogni mese? Quanto riesci a fruttare? 300-350 euro! Poi qualche... Travaglio un euro! Devo pulizio i cest! Va! Sì! Mese il congesto che tu la vuoi donna! Giusto? Un cacetto che sogna il Rosigno! Ho voluto finire! Perché sai come oggi come oggi? Ma io ti chiamare perché mi voglio maritare! Esatto! E lo voglio ficcare! Non voglio fare niente! Ma io lo voglio come acquista! Con palla! Esatto! Ma va stare molto! Ma vai dire! Ho un pezzo per... Tu sapete per me! È va! Come te lo direi? Un sacco parlare buono! Italiano! Come a capire! Allora noi ci... Non lo sacco se posso parlare a Corsiana della Camera! Arrivati a questo punto! Filippo io non ti posso garantire niente! Però ci possiamo tentare! È meglio un caos e un culo! È vero! Sì! Va bene! Allora! Parlaci di te! Che tipo di carattere hai? Ma... Mi piace romere! Mi piace mangiare! E io volevo pure fottere per un futto! Perché... Un po' di carattere! Ascoltami Filippo! A parte lei! Esatto! Cioè... Come fai tu a resistere a questa... Una volta c'è una chiapa! Però entra a me mostro perché c'è... Mi ha scannato! Però la chiapa mi ha diventato! Era per la corsa! Non si lamentava! Non ballava! Però avevo due anni... Già che mi ha mostro la chiapa! È un po' di fare più niente! Sì! È chissà tragedia! Sì! Tu mi capisci! Da mangiare sì! Ah no! Io mi mangio! No! No! Io... Ci faccio un'altra cosa! Oh carico! Mi piace che mi vado pure! Ci rugno! La foto! Gli uomini di solito... Hanno un'amica! Un'amica che si chiama Federica! Ah che mamma! Che ingiagato! Mi vanno! Perché io sto notando che tu hai una mano diversa dall'altra! Una è più grossa e una più piccola! È troppo rossa perché chissà... La destra è più grossa! Sì! Adesata! Esatto! E' richiesto! Attenzione perché ci sono cose che non possiamo dire! Attenzione! Un po' sorire che... Non c'è un po' un po' di... No! E' reato! Reato è ne... Sai come? Non è giusto in televisione! Non è giusto in televisione! Ma vuoi consumirlo in questo mondo? E' che purtroppo... Pure i barri ne sa me! I barri ne si ficcono pure piccini! E lo so però... E che un po' sorire che il mamino! Ci sono certe cose che non si possono dire! Perché purtroppo siamo in pubblico! E tu me la dire una cosa tu me la dire prima! Ma se no... Io non è che so quello che devi dire! Io parlo perché sono ignorante! Tu non hai capito che non hai scuola! Allora... Allora... E lo sa c'ho fermare l'andicchia! Però manco capisci che sto cominciando a film! Certo! Tu hai scuola! La posso levare sta buttata! Sì sì sì! Allora vamo! Allora Filippo! Sì! Abbiamo detto che tu non lavori e cambi a sbafo! Un po' così! A sbafo dello Stato! Certo! Come tutto quanto! Come i vizi! Che tipi di vizi hai tu? I vizi! Sono così i vizi! Fumi! Bevi! Ah! E' un'andicchia! O barri ci vai! Io mi bevo a Brissama Vivo! Eh... A bote! Un amico mi portava un bel trono! E mi fumo! E mi spavano capisci che un cazzo! Poi mi viene fame! Venemmo! Sì! E mi mangio per due volte! Perché questo sogno! Un po' con il bucchiolo! Ma non ti manca nulla? Sei completo! Oh! Un sticchio mi manca! Ma se non mi avessi chiamato! È certo! A parte quello dico non ti manca nulla! Che questo voglio io! A ciambello! Io ci ho regalato l'amico a me! A ciambello mi piace! Io voglio un pettuso la ciambella! A ciambella non è l'altra! E ovvio! Allora ascolta Filippo! Ma tu parli sano! Parli troppo... E non ti capisci o buono! Parli troppo buono! Ma tu hai scolato? No no! Bassi su! Però... E me sono più bassi... E quelle due sono basse assai! Eh... Ha detto a mandare e a bocciare quattro volte! Ho capito! Ma che affare? Ma comunque l'importante è che ci capiamo! E soprattutto che ci capiscono anche a casa! Perché secondo te ne capiscono? Io non gioco! Ma io penso di sì! Se sono in sala, a trapano magari ne capiscono! Ma già un palermo secondo me ne capiscono! A Catania! A Roma! Che mi hanno capito! A me hanno capito! Eh vabbè Filippo! Parliamo ora di questa donna che andiamo cercando! Tu hai 35 anni! Sì! Questa donna da che età la dobbiamo cercare? Eh... Io non so se la legge soccorre! Però... Che unica possibile che la legge dice che mi posso cercare! 18 anni! Eh! 18 anni! Quindi dai 18 in su! Ma pure a 70! Basta che una è molta! Però sai come si dice? Gallina vecchia fa buon brodo! Quindi... Buono! Ma mangio! E poi a scanno! E poi a futta! E poi a mangio! Basta che io mi ha divento! Basta che cagli ne... Vabbè! Aura! Allora scusate! Ne fisca per la veste da caura! Certo! Fitta! Mi fico a chissà di plastica! Vabbè Filippo! Un'altra cosa importante! Eh! Come ti possono contattare? Dico se c'è qualche donna che in questo momento sta guardando! Dice voglio fare felice Filippo! Esatto! Che ti vuole accontentare! Ma basta come mi domanda soldi! Perché soldi è un gennaio! Eh! Voglio soldi! Voglio soldi è sticchio! Se una fimmera mi vuole rare! Pure soldi! Mi ho picchio! Pure soldi! Però mi pare difficile che mi ruona sticchia soldi! Se mi vuole rare! Non ti chiedi sticchio! E io ci posso rire ragazze! Ci posso pagare il caffè! Ogni tanto! Un piatta pasta ci posso rare! Perché soldi che fu tostato! Un piatta pasta ci riesce per tutte le robe! Donna mangia uno mangia una robe! Mi ha imparato! Mi ha imparato! E mia mamma! Va bene! E un po' che stai! Ma mi interessa se è rossa! Sicca! E mi ha fatto avere rossa! Perché a me non mi piace! Chi sa! A me non mi piace la cainazza! Certo! E mi ha tanti avuto! Logico! E la maestra è poicca! Certo! Assai poicca! C'è la canzone di Canusci! Che chissà! No! Poicca c'era uno che diceva poicca! Quella! Una rettape ne diceva poicca! No! No! Noi non ho i dettagli! Mi piace perché se è poicca! Perché se è poicca! Come si chiama? O ne va la scopa! Vasco! Mi piace perché se è poicca! Vasco rosso! No ma tu scolonnai! No! No! Vero! E la canusci! Mi piace questa canzone! Solo chi sa! Va bene! Filippo! L'ultima cosa! Per contattarmi! Per contattare! dai perché io non ho il telefonino con 300 euro a me che f***o mi hanno andato a dare il telefonino manco sa come miglia funziona il telefonino ti scrivono a tia ti dicono io mi volessi ficcare a Filippo e tu mi dici e chiama Ficco se vuoi taleare tale io mi ne f***o l'importante è che non vai guardando l'aspetto esteriore dico la faccia no io per tu se voglio il resto della faccia non ti interessa me ne f***o un cazzo perfetto va bene amiche telespettatrici donne che state guardando questa intervista strana con Filippo 35 anni di Marsala Filippo è qui sta cercando una donna per sentirsi meglio non è vero un po' che f***o ne lo voglio un pettuso un resto tu puoi pigliare tu per tutte quelle di voi che lo volessero conoscere personalmente magari conoscerlo di presenza magari per vedere un caffè ci pago per vedere che faccia abbia qui il nostro Filippo di Marsala 35 anni ripeto che un bravo ragazzo all'apparenza esatto di vizi ce l'ha tutti quindi non gli manca nulla come potete fare? potete contattare la nostra redazione al 348 0382 850 mandate un messaggio whatsapp perché per telefono non rispondiamo un messaggio whatsapp dice voglio conoscere a Filippo e noi vi metteremo in contatto con lui buon ue buon ue ti ringrazio lo hai detto meglio speriamo che possa ficcare perché ho 35 anni sulla chiapa e sta buttando la plastica me lo auguro mi ha esaurito come va mi ha dato una mano perché la randicchia scattia per te va bene va abbiamo detto tutto questo è tutto per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente l'amico Filippo ciao ciao salutiamo non c'è cosa buona